E' stato mosso il primo passo a livello provinciale da Potenza per dare il via ad un percorso di adesione e conseguente mobilizzazione per sottolineare il secco no alla legge sull'autonomia differenziata approvato in via definitiva alla Camera dei Deputati lo scorso 18 giugno. Molti promotori del Comitato Referendario Provinciale per l'Abrugazione della Legge Calderoli è stato istituito a margine di un'assemblea che si è svolta nella sede regionale della CGL. Dal capoluogo di Regione Lucano è stato altresì lanciato un invito a tutte le realtà politiche, partitiche e associative che non l'abbiano ancora fatto ad aderire a quella che sta assumendo su scala nazionale i caratteri di una vera e propria mobilizzazione tra le più importanti della recente storia politica nazionale. Al momento 30 tra partiti, sindacati e associazioni hanno già aderito al Comitato, tra questi c'è il Partito Democratico, così sul punto il segretario regionale dei DEM Giovanni Lettieri. Sicuramente serve la partecipazione di tutti, una grande mobilitazione per evitare che questa legge spacca Italia faccia danni gravi, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, ma su tutta la dorsale appenninica, su tutte le periferie sostanzialmente. Certo, tutto il Partito Democratico è al lavoro da nord a sud e l'errore che non bisogna fare è regionalizzare o meridionalizzare la battaglia, necessariamente dobbiamo fare di questa battaglia una battaglia per l'Italia unita, così come i principi costituzionali affermano dalla nascita. Grazie a tutti.